Primo volto nuovo in casa a Pistoia Basket a Oriora. In via fermi è infatti arrivato Carl Weedle, giocatore inglese nel giro della Nazionale Britannica ma di formazione italiana. Per lui è stato firmato un contratto biennale. Nato alla periferia di Londra, Carl Weedle è un'ala piccola di 2 metri per 88 chili. È entrato a far parte del settore giovanile piemontese nel 2013, rendendosi protagonista di un entusiasmante percorso di crescita che nel giro di poco tempo lo ha portato a diventare uno dei punti di riferimento della prima squadra. Nell'ultima stagione, la sua terza in Serie A2 con i galloni di capitano, Carl ha scritto 9,4 punti, 6,3 rimbalzi e 1,6 assist di media partita in quasi 32 minuti di utilizzo, partendo sempre nel quintetto base scelto da coach Michele Carrea che quindi lo ha voluto con sé a Pistoia. Sono felice per questo grande passo in avanti nel mio percorso, ha sottolineato Carl Weedle. È una bella sfida e voglio affrontarla nel migliore modo possibile. Pistoia è una piazza importante e non ho avuto dubbi nel rispondere a questa chiamata, anche perché avrò l'opportunità di continuare a lavorare con un coach che conosco e stimo come Michele Carrea. Sono un giocatore molto fisico, in difesa posso cambiare su tanti ruoli, in attacco cerco di sfruttare al meglio il mio corpo. Carl merita questa grande chance, ha aggiunto coach Carrea. Ha la fisicità giusta per la Serie A. È un ottimo prospetto e sono sicuro che si ritaglierà uno spazio importante in questa squadra.